E' uscito, si è affacciato, adesso scenderà e lo intervisteremo immediatamente. Ho aspettato, ecco Paolo Gatti che è uscito proprio adesso, però è scappato dalla casa, da dove si trova in questo momento il nuovo sindaco di Giulianova. Viva, viva! Viva, viva! Abbiamo un dottore! Viva! Alza le mani, alza le mani! Viva, viva! Viva! Allora, siamo Costantini Grazie, grazie, si è forte Costantini, un sogno che si avvera Un attimo che si avvera Siamo stati veramente sommersi dallo spumante, dallo champagne Costantini, lei è il nuovo sindaco di Giulianova, qual è il primo? È una soddisfazione incredibile, è una responsabilità grandissima È stata una durissima campagna elettorale È stata una competizione elettorale, voto a voto Le onori delle armi vanno al mio avversario Che ho rispettato sin dal primo turno E continuerò a farlo anche in consiglio comunale Io ringrazio tutti i cittadini di Giulianova Da domani mattina saremo al lavoro per regalargli una città diversa Qual è la prima cosa che farà? La prima cosa che farò è ringraziare tutti i cittadini E andare a trovare tutte quelle associazioni Che hanno bisogno di sentire un comune, un sindaco vicino Perché da troppo tempo non hanno le istituzioni al fianco Io voglio tornare alla piccola opera Caritas, all'Anfas Voglio tornare al Dono di Maria, voglio tornare da loro Si parte dai più deboli, lo abbiamo detto in campagna elettorale, lo faremo La squadra? La squadra adesso fatici godere perché abbiamo fatto due mesi durissimi Io ho avuto la febbre per almeno dieci giorni di questa dura campagna elettorale Sono andato avanti, domani mi prendo 24 ore per riposare Per cercare di metabolizzare una delle più belle sensazioni che ho avuto nella mia vita Dopo la nascita di mio figlio e il matrimonio con mia moglie Si poteva immaginare una fine così? No, assolutamente, sapevamo che eravamo voto a voto, sapevamo che era Davide contro Golia Ma ogni tanto i sogni si avverano e noi abbiamo realizzato un sogno E l'abbiamo fatto grazie ai nostri cittadini che ci amano Noi amiamo questa città e quando ami qualcosa vai al di là di ogni simbolo di partito L'unico dato negativo è il fatto dell'affluenza che comunque non è stata alta Sapevamo, è andata così anche nel 2014, sapevamo che l'affluenza sarebbe calata in maniera terrificante E un po' ci preoccupava questo dato Poi domani con calma analizzeremo il voto e ci metteremo a disposizione la nostra città La dedica più importante di questa vittoria? Dedico questa vittoria sicuramente alla mia famiglia e un mio amico che mi ha lasciato l'anno scorso